Lazio, a Verona non sei il dato sui biglietti venduti. Roma tutti a Verona caccia di punti importantissimi. La Lazio lunedì nel tardo pomeriggio, fischio d'inizio alle ore 18.30. Vuole vincere per rimanere in alto. C'è da riscattare il KO con la Juve e l'uscita dalla Coppa Italia. I bianco celesti lo faranno insieme ai tifosi. Incoraggiante il dato sui biglietti venduti nel settore ospiti del Bentegodi. 1.500. Numero increscendo nelle prossime ore, un segnale importante da parte dei laziali che mai hanno fatto mancare il loro supporto lontano dall'Olimpico. Poi le prossime due sfide saranno in casa. Atalanta e Clou in Conference League. In trasferta si tornerà il prossimo 19 febbraio a Salerno, poi il ritorno in Romania. Sarà un mese ricco di partite importanti per la Lazio. Con i tifosi sarà tutto più facile. Virgola.